Lucia ha realizzato il sogno di una propria azienda. Il business plan è pronto, l'azienda è fondata. Ora intende concentrarsi sull'operatività e sui clienti. Tuttavia, le manca ancora qualcosa di importante, un ufficio, o per meglio dire, tutto quanto serve per trattare le ordinazioni in modo professionale. Quante postazioni di lavoro servono? Che tipo di collegamento internet? Quali software? Dove salvare i dati? Serve un collegamento commerciale? E come collaborare in mobilità? Domande su domande. Per fortuna, i consulenti start-up di Swisscom assistono personalmente Lucia e l'aiutano a organizzare in modo ottimale la sua azienda. In questo modo, ha la mente libera per iniziare la sua nuova vita da imprenditrice, senza altre preoccupazioni.